Ringrazio la presenza dei sindaci che abbiamo voluto invitare per la presentazione di quello che è tecnicamente uno studio di fattibilità, quindi non è un progetto, è uno studio di fattibilità. Però ritenevamo corretto mettere a disposizione del territorio il lavoro fatto finora e che ci è arrivato nelle scorse settimane, come avevamo annunciato, un lavoro fatto da RFI, finanziato in parte anche dalla provincia autonoma. Quindi ringrazio tutti i sindaci, abbiamo invitato i sindaci di questa, ovviamente dell'Alto Garda e i sindaci interessati nel tragitto tra Roveretto e Labusa. Abbiamo iniziato a parlare di questo nel 2019, come ricordate era anche nato dal dibattito avuto nei diversi momenti in cui ci siamo trovati presso la comunità di Riva del Garda, la comunità di Valle, era stato anche un input arrivato dal territorio. E' quello su cui si è lavorato in questi mesi, ovviamente ne abbiamo parlato nel 2019, nel 2020 tutti sappiamo cosa è accaduto e come è andato. Il momento della sottoscrizione dell'accordo per arrivare allo studio di fattibilità con RFI è del febbraio del 2021. RFI si prese da convenzione 270 giorni di tempo per farlo e quindi possiamo anche dire che ci siamo nei tempi, perché noi questo lo abbiamo ricevuto qualche bella settimana fa, l'avevamo anche annunciato, poi abbiamo atteso di venire qui per spiegarlo. Abbiamo voluto prima affrontare in un altro momento qui a Riva del Garda le altre tematiche infrastrutturali che abbiamo trattato con i sindaci 15 giorni fa e lasciare a latere questo in un momento costruito appositamente per questa presentazione. Quindi quello che abbiamo davanti è uno studio di fattibilità. Dovevamo per forza partire da questo perché un progetto di questo tipo in qualche modo deve comunicare alle comunità interessate, alla provincia autonoma di Trento, quale interesse può avere per gli utenti barra passeggeri e questo si ripercuote poi anche sulla sostenibilità finanziaria o comunque sull'interesse finanziario che ci può essere in un'opera di questo tipo, che dipende anche dal numero di passeggeri che vogliono usufruire di questo mezzo di trasporto. Non lo chiamiamo, o meglio possiamo chiamarlo per facilità, Rovereto Busa, ok, benissimo, però non è questo il concetto. Il concetto è Bolzano barra Brennero barra Austria barra Germania Busa perché in questo modo lo inseriamo all'interno del reale interesse che ha sia per la struttura sia per il treno ma soprattutto per questo territorio. Non dobbiamo pensare che sia un mezzo di trasporto ordinario per chi si trasferisce da Rovereto a Riva, diciamo più o meno quotidianamente o viceversa. Lo dobbiamo vedere come un mezzo di trasporto che collega l'Europa, possiamo dire la Germania, per la grande importanza che ha la Germania per questo territorio, all'Alto Garda. Lo dobbiamo intendere in questo modo e questo lo capiremo perché dai numeri che verranno dati di questo studio di fattibilità che parlerà di un interesse ordinario nei momenti ordinari del percorso che è dato dalle persone che ordinariamente lo utilizzano tra Rovereto e Riva e un momento straordinario ma che per la portata di numeri che dice questo studio diventa essere determinante proprio per l'interesse barra sostenibilità, barra progettabilità di questo sistema di comunicazione e quindi li dobbiamo mettere insieme. Voi vedrete che se mettiamo insieme il numero di utenti interessati nei momenti ordinari con i momenti, chiamiamoli, dei momenti extraordinari che li possiamo pensare lo studio stesso parla di momenti extraordinari da maggio a ottobre, quindi anche in un arco relativamente ampio, dove soprattutto nei mesi di giugno, luglio, agosto vediamo che il potenziale interesse per una persona che vuole usufruire di questo mezzo di trasporto si alza in modo importante. Il tempo di percorrenza varia dipendendo dagli scenari, ci sono tre scenari come vedrete che variano rispetto alle fermate che si vogliono fare, il tempo di percorrenza va da 9 minuti, 10 minuti se parliamo di un collegamento diretto Rovereto-Altogarda a 27 minuti se parliamo di un collegamento con tre fermate, due a Mori e una a Torbole. Poi vedrete che lo scenario migliore è quest'ultimo, cioè quello che prevede le fermate, quello più lungo in termini di tempo, ma che prevede le fermate su due fermate su Mori e una su Torbole partendo da Rovereto arrivando nell'Altogarda. Questa è un po' la sintesi, ora lascerei la parola al dottor Andreatta e all'ingegner De Col che è arrivato e quindi lo invito qui a sedersi per la spiegazione tecnica che vedrete è molto anche complessa, abbiamo cercato anche di sintetizzarla, però è molto interessante. Prego. Grazie a tutti e grazie agli amministratori presenti e a chi ascolterà questa breve presentazione anticipata dal Presidente. Ha detto bene il Presidente, non è un progetto esecutivo, è il riassunto di un percorso che, come tutti i percorsi che attengono la mobilità, necessita sempre di tempo. Vorrei ricordare che della fermata di Caliano abbiamo iniziato a parlare dieci anni fa e i treni fermeranno la stazione di Caliano dall'orario estivo 2023. Sono sempre percorsi importanti e richiedono meditazione. Qui c'è un dato. Questo corridoio è inserito nel PUP 2008 e nel 2014 è stato rinnovato in termini di previsione dentro il piano territoriale di comunità. Quindi sono sempre percorsi che richiedono tempo e non solo nell'era moderna, ma bene dire che la ferrovia della Valsugana è stata realizzata nel 1896, ma il podestà di Pergine e di Levico se ne occupavano da 40 anni prima. Per quanto concerne la precisazione di quello che ha già anticipato il Presidente, c'è un dato che non era esposto, ma che è bene sempre ricordare. Io ho qui i dati 2018 dei transiti bidirezionali dei veicoli alla stazione 145, quella di Loppio, e alla 147, che è quella di DRO. Bene, il traffico bidirezionale medio del 2018 era di 19.000 veicoli a Loppio e di 17.600 a DRO. Poi si riducono un po' quelli di Loppio alla stazione 197, quella di Nago Torvole, dove diventano 12.000. Però nei picchi, rispettivamente Loppio e DRO, raggiungono i 29.000 e i 22.000 veicoli. Quindi la situazione di partenza è esattamente questa. Due arterie che, nei momenti di picco, ma non solo perché i dati medi sono altrettanto rilevanti, vedono un numero di veicoli assolutamente spropositato rispetto alla valenza ambientale, turistica, ricettiva, di un'area che, come tutte le aree complesse, vale per Venezia e vale per le Dolomiti, è evidente che questo trend non lo sopporteranno a lungo. Le slide che indichiamo insieme all'ingegner De Colle sono quelle che riassumono lo studio di fattibilità realizzato da RFI. RFI ha eseguito questo studio con il Centro Studi Nazionale dopo una richiesta espressa inserita in una convenzione e non è stato banale questo profilo. Basti dire che il movimento che chiede la ferrovia della Visio sta chiedendo altrettanto inserimento perché ha concepito come solo dentro un quadro nazionale di reti si possono raggiungere risultati anche dal punto di vista dell'implementazione ferroviaria. Non esiste più che ci si faccia la ferrovia di Valle magari a scartamento metrico. Sono assolutamente improponibili i sforzi di questo tipo. Su 22.000 km di rete ferroviarie in Italia 17.000 sono di RFI. RFI è la società del Ministero del Tesoro e ci sarà pure una ragione che è fatta di economie di scala, tecniche, di sicurezza. Dopo l'incidente di Adria non è più possibile gestire con tranquillità nessuna ferrovia locale. quindi non stiamo parlando della ferrovia del Renon, del trenino del Renon. Se si parla di ferrovie bisogna stare dentro reti. E dice bene il Presidente quando fa riferimento al corridoio TNT è una rete ferroviaria che parte da Monaco e scende e rispetto alla quale questa può essere una deviazione. E questo dice già che abbiamo sdoganato un tema cioè il scartamento metrico treno tram, trenino, treno gommato o ferrovia ordinaria. Scelta ricade per logica per quello che ho detto per logica di economia di scala dei materiali rotabili. Basti dire che in Trentino Alto Adige oggi il servizio ferroviario si compie tutto dalla Pusteria alla Venosta alla Val Sugana e Val Sugana quando sarà elettrificata alla Brennero si compie tutto con 24 treni. Quindi un numero relativamente modesto non è che i treni costino poco ogni treno costa 10 milioni di euro però è certamente vero che non ci si può permettere di avere ferrovie isolate. La Trento Malena impiega 14 per dare le dimensioni e percorre 900 mila chilometri anno. Il resto della rete è fatto di quasi 10 milioni di chilometri e impiega 24 treni. Quindi è chiaro che quando si realizza un metro di ferrovia bisogna capire a quali spese poi gestionali si va incontro perché ogni metro implica un disavanzo gestionale. Non esiste un metro di infrastruttura che sia su autobus o che sia ferroviaria che non comporti disavanzo e quindi accollo alla Fiscalità Generale. Cioè non c'è un servizio di trasporto che si regge. Forse la funivia del Bondone se si farà. Ecco, quello è un caso che simile a Malcesi e Montebaldo fa un milione di utili all'anno. 9 milioni di valore della produzione e 8 milioni di costi. Ma non esiste viceversa il trasporto di massa ordinario che faccia utile. Quindi per forza di cose bisogna ragionare con cautela su reti. Reti vuol dire rete ferroviarie intesa come posa del binario ma vuol dire anche materiale rotabile e personale. Questa premessa unita a quella del numero di veicoli che ripeto è assolutamente imponente tenendo conto delle due arterie ci porta a dire che era necessario partire dalla previsione del PUP e del piano territoriale di comunità per arrivare a vagliare ciò che era già stato esaminato all'inizio degli anni 2000 con quel concorso di idee. quindi a RFI abbiamo chiesto di partire da lì per dire se tra le tre ce n'era una preferibile dal punto di vista di un'analisi multicriteriale che ci rendesse possibile con operazioni di lobby territoriale inteso in senso positivo rivendicare da RFI e quindi dal Ministero del Tesoro e del Ministero dei Trasporti una prosecuzione di una ipotesi di implementazione ferroviaria perché le ferrovie sono nate esistevano qui ma se sono morte ci sarà pur stato un motivo nel senso che l'industria automobilistica le ha annichilite ma è un fatto storico da non condannare col senno di poi sì ma troppo facile farlo col senno di poi quindi se le ferrovie vanno riprese ricostruite lo si deve fare sulla base dei presupposti di sostenibilità sotto tutti i profili anche gestionali nel 2012 dieci cordate internazionali di progettisti si erano occupate di questo tema e ne erano venute fuori tre ipotesi nel concorso di idee Rovereto Mori Tione che abbiamo riproposto RFI perché le valutasse due in buona sostanza prevedevano partenza direttamente da Rovereto per sfioccare verso l'area del Garda una invece teneva buona la ferrovia del Brennero sino a Mori per poi deviare con una tratta di circa una ventina di chilometri verso il Garda le tre ipotesi che erano state anche al tempo diffuse sulla stampa sostanzialmente differivano per l'approccio che avevano rispetto all'avvicinamento al lago e rispetto al numero delle fermate lo ha già anticipato il Presidente il numero delle fermate diventa funzionale dentro lo studio di un modello di esercizio per capire cos'altro ci si possa attaccare in termini di modello rispetto alla tratta di per sé marginale tra Mori e Riva e poi capiremo meglio le ragioni di questa cosa lo studio è stato imponente RFI ha affrontato questa vicenda sapendo di doverlo fare non con superficialità perché è chiaro che nel momento in cui dentro gli studi di fattibilità ne emergesse la positività RFI che realizza un piano un contratto di programma con il governo aggiornato annualmente ma che vale miliardi di euro ogni anno perché immaginate tutto il sistema forviario nazionale è chiaro che nel momento in cui ne emerge la fattibilità il prosieguo diventa estremamente obbligato e vincolante anche per la stessa RFI e quindi si è fatto riferimento alla popolazione di un'area che è quella che vedete e che corrisponde a 92 comuni direttamente interessati alla ferrovia perché ripeto la ferrovia vista connessa con il Brennero e che invece in termini di area estesa e quindi di bacino di influenza occupa 120 zone di traffico quindi l'analisi ha riguardato i flussi veicolari dell'area gialla che vedete e che naturalmente corrisponde sostanzialmente all'intero bacino regionale e non solo le dinamiche demografiche sono pure un profilo abbastanza rilevante cioè quell'area che avete visto gialla è fatta di 4 milioni e mezzo di persone e un milione sta più o meno in questa in questa intesa come area di pertinenza della ferrovia in se stessa e questa è un'area che ha avuto un incremento di popolazione dato affatto secondario in questa in questa vicenda il turismo lo conoscete la torta dice quanto è quello straniero vedete che la parte rossa è assolutamente importante e gli arrivi che detti così magari dicono poco però se pensate che nel mese di agosto sono 182 mila gli arrivi qua era il 2019 e si capisce bene come l'afflusso renda necessario immaginare che le soluzioni agli trasferimenti agli trasferimenti in quest'area non possono essere solo affidate alla viabilità servizi ferroviari la rete si diceva prima qualcuno spesso dice dovrebbe esserci una metropolitana di superficie tra Trento e Rovereto di fatto c'è già perché ci sono 100 treni che fanno la spola tra Trento e Rovereto quindi molto spesso serve anche uno sforzo di accesso da parte dei cittadini servizi su gomma sono noti sono quelli che oggi garantiscono la mobilità a chi non si muove con la macchina e quindi conoscete le due linee importanti quella che arriva a Arco a Bolognano e quella che arriva a Riva entrambe così anche fonte di problematiche lo sanno bene gli amministratori le autostazioni non sono mai un elemento apprezzato e questa giunta sta lavorando su questi due temi scorsa settimana si è incontrato il comune di Arco Caneve per noi può essere una soluzione e quindi se lo spostamento del rimessaggio e della partenza dei mezzi può utilmente secondo il comune avvenire da lì noi certo non ci oppioniamo così come per Riva del Garda sapete che sono in corso riflessioni anche in termini di variante urbanistica che il comune con la variante 13 avrà e ha nel mirino nelle prossime settimane e mesi servizio pubblico è quello che oggi impiega un'ora e mezza per portare cittadini tra Trento e Riva cittadini e studenti sono state ricostruite le matrici da dove sia quelle veicolari quelle del TPL appena descritto per il totale con numeri che si sono rifatti alle matrici Istat 2011 che oggi rappresentano la fonte di dati più rilevante di cui si disponga e più precisa non era un'indagine statistica campionaria quella del 2011 era forse l'ultima indagine totale sugli spostamenti dei pendolari lavoratori e studenti a tutt'oggi rappresenta una fonte di informazione estremamente importante magari qui posso anche correre un po' di più nel senso che si descrivono quelle ipotesi di scenario di cui ha parlato il presidente che differiscono per quella sostanziale scelta che può avvenire tra un tragitto con più fermate o un tragitto diretto e come si diceva risulta più profittevole dal punto di vista dell'utenza un tragitto che abbia in sé anche tre fermate Torbole e Mori sia Borgata che Mori industriale perché questo nella complessità dei reticoli e del grafico d'esercizio consente di unire il modello di esercizio a relazioni su Bolzano meno profittevole sarebbe disporre di un percorso più breve senza fermate che non consentirebbe di intercalare questo servizio Riva Rovereto con relazioni che arrivino a Bolzano appunto e lo scenario 2 che naturalmente ad oggi rappresenta una ipotesi di studio è quello che però con le fermate e con l'approccio a Torbole e Mori in termini di fermate e l'approccio finale a metà tra Rovereto e Riva rappresenta la soluzione migliore tra le tre come sarebbe il servizio il servizio sarebbe composto di circa 35 coppie di corse di cui 17 sarebbero stirate su Bolzano e significa avere un servizio su Bolzano all'ora e cadenzato alla mezz'ora nella tratta Riva Rovereto di massima posso dire che oggi anche il servizio sulla Brennero tra Trento e Rovereto è indicativamente su questa su questa intensità oraria qui ci sono dei grafici che abbiamo messo solo per dimostrare come questo studio di fattibilità non fosse uno scherzo lo dico era stato detto che in quanto pagato poco non valeva avevamo già detto al tempo che questo studio era inserito in un accordo che la provincia ha fatto con RFI per 14 milioni di euro in cui c'erano l'interporto c'erano altri studi di fattibilità quindi il fatto che fosse poco costoso per noi non rappresentava un minus ma anzi un accreditamento di fiducia da parte di RFI rispetto al contesto complessivo in cui abbiamo inserito questo studio quindi ci sono i grafici che riportano il ci sta il treno e a che ora e cosa e cosa incrocia questo resterebbe naturalmente una ferrovia a binario unico a scartamento ordinario dicevo prima quindi scartamento vuol dire un metro e quaranta circa scartamento metrico sapete sono i treni la Trento Malè che hanno uno scartamento un binario più piccolo apro e chiudo parentesi stiamo facendo fatica a trovare fornitori di treni a scartamento metrico quella omogenizzazione di cui dicevo prima 17.000 km RFI vuol dire economia di scala sotto tutti i profili noi adesso avevamo risorse per tre treni e abbiamo rinunciato convertendo le risorse su treni della Brennero perché i fornitori tre treni non li fanno per la Trento Malè questa è la verità quindi quando si parla di treno-tramo di soluzioni più casalinghe e artigianali bisogna fare i conti con il mercato anche dei produttori di materiale rotabile gli orari sono appunto indicati qui e con le varie ipotesi di esercizio e qui ci sono gli studi degli effetti dei carichi rispetto rispetto alle tre ipotesi che abbiamo fatto affrontare ad RFI l'ha detto il Presidente prima è chiaro questa è un'area che ha spostamenti stanziali che sono quelli che caricano quei famosi 22.000 e 17.000 veicoli bidirezionali sulle due tratte e poi ci sono gli spostamenti in natura occasionale dei turisti con tutti i dati ricavati nello studio chiaro il turismo qui rappresenta il valore aggiunto in termini di accesso ai treni detto così incidentalmente Val Sugana e Trento male oggi faticano tanto perché se parliamo di 5.000 passeggeri giorno le economie di scala ancora non ci sono e quindi per forza di cose quando si parla di ferrovie di valle bisogna ragionare nei territori più profittevoli dal punto di vista dell'accesso e quindi anche della rete questo riepilogo degli spostamenti spostamenti appunto in ragione distanziali turisti assolutamente rilevanti e l'analisi multicriteri che ha affrontato tutti i profili ambientale suolo consumato eventuali profili infrastrutturali profili trasportistici un'analisi multicriteri davvero completa attraversamento delle aree protette ce n'è anche qui e scorro le slide risparmio anche di trasferimenti di PL attuali su gomma e una sintesi finale con attribuzione di punteggi alle tre ipotesi sino a cerchiato anzi quadratato in arancione sino a dare evidenza come la soluzione 2 ad oggi risulti quella più rilevante trasportisticamente più efficace ma non solo trasportisticamente appunto perché l'analisi multicriteri indaga anche gli altri profili ambientali di congestione e quant'altro le conclusioni qui sono riassunte per carico di passeggeri per treno tradotte sono quelle che hanno anche anticipato i giornali effettivamente si arriva ad avere una stima di passeggeri giorno in momenti ordinari di 6-7 mila passeggeri saliti e 10 mila nei momenti di punta questi numeri non si hanno se il modello di esercizio non prevede quelle corse prolungate da e per la relazione Bolzano quella consente di arricchire il numero di passeggeri in modo assolutamente importante e l'analisi dei flussi attuali consente di dire che quei flussi sono utilizzabili e spostabili su questa infrastruttura c'è un elenco delle fonti utilizzate per lo studio e come ha detto il presidente non è un progetto esecutivo è però la sintesi di un percorso molto serio che RFI ha effettuato con la collaborazione anche dei comuni e cui abbiamo chiesto dati ad A22 dati di traffico e complessivamente è un percorso che si chiude in termini di istruttoria rispetto a quello iniziato a cui l'ingegnere Decolla aveva anche lavorato che era quello di quel corridoio rovereto mori arco tione che nel PUP era previsto ed è a tutt'oggi previsto grazie grazie al dottore Andreatta l'ingegnere Decolle nel frattempo ci ha raggiunto se deve aggiungere qualcosa presidente conclude questa parte di illustrazione poi passiamo alle domande sì anche credo per anticipare le domande perché credo che la domanda successiva sarà bene adesso cosa succede adesso succederà che la provincia avendo a disposizione questi dati e di questi dati dovevamo disporre per poter dire procediamo e per dire che c'è un percorso sostenuto diciamo che ha che ha una propria sostenibilità il percorso il passo successivo sarà quello di chiedere a RFI di metterci le risorse per fare la progettazione vera e propria del collegamento un po' come stiamo facendo su Rovereto dove abbiamo chiesto le risorse per la progettazione dell'interramento le risorse RFI le ha date e adesso parte la progettazione successivamente è chiaro che poi la partita diventa qualora la progettazione dovesse dire che questi dati sono confermati che c'è la condivisione col territorio che l'opera non ha impatto ambientale urbanistico geologico bla 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 è chiaro che poi si pone un problema di risorse di cui ovviamente la provincia non dispone però come RFI ha fatto sta facendo in altri progetti sarà l'impatto di noi tutti questo mi sento di dirlo sarà la capacità per quanto compete alla provincia di Trento ma anche per quanto compete ai territori di sostenere l'importanza di questo di questo collegamento perché RFI diciamo ci creda ancora di più ovviamente siamo nella fase post progetto ok questo ci creda ancora di più e comincia a ragionare nella messa a disposizione delle risorse così come sta avvenendo in altre realtà così come è avvenuto e sta avvenendo per il per il collegamento no Brennero classico del sede del tunnel del Brennero ecco questo è il percorso che occorre che occorre mettere in piedi quindi ora noi chiederemo a RFI di mettere le risorse per il per la progettazione e dopodiché dobbiamo fare fronte comune territorio dell'Alto Garda territorio di Rovereto provincia autonoma e tutti gli sei cold per far capire l'importanza di questo progetto su questo territorio bene grazie per questa ulteriore precisazione nel frattempo una collega ci chiede se comunque una stima dei costi ce l'abbiamo è arrivata una domanda da Trento risponde l'ingegner Decol prego sì allora sono 450 milioni di euro i costi del collegamento Rovereto Riva del Garda come come soluzione fino a Riva del Garda dopodiché bisogna vedere le opere connesse perché c'è tutta una serie di opere che riguardano il sistema di aduzione che non può essere trascurato cioè come diceva il dottor Andreata il modello urbanistico deve adattarsi a un progetto di questo tipo che prevede la trasformazione di mobilità interna all'area in modo importante perché altrimenti rischiamo che non ci sia ci sia ancora una mobilità sul mezzo individuale e quindi va sviluppato anche un sistema di aduzione locale che non ha costi così elevati però è stimabile su intorno al 10% quindi posso immaginare che il costo globale sia sui 500 milioni grazie ingegnere c'è una domanda da parte della RAI abbiamo bisogno però di sentirla al microfono non sentiamo se non arriva il microfono lì ok allora ripetiamo la parte dei costi dicevo 450 milioni il collegamento della linea ferroviaria più 50 milioni che sono le opere di aduzione che sono parcheggi e sistema di mobilità integrata grazie ci sono altre domande qualcuno vuol fare degli interventi il sindaco prego allora vorrei fare una domanda al presidente in base ad un'altra opera che si sta discutendo insomma nel nostro territorio che riguarda la funivia che dovrebbe collegare Riva con la Val di Ledro che però insomma il comune di Riva l'amministrazione di Riva si è già espressa negativamente su questa opera e mi risulta insomma che anche l'edro però era nelle famose 32 opere presenti inizialmente per quanto riguardava il PNRR volevo sapere insomma dal presidente a che punto siamo che cosa pensa grazie no le 32 opere del PNRR erano quelle che aveva chiesto il governo Conte II e noi c'eravamo diciamo adeguati alle richieste avevamo risposto anche cedermente rispetto al cronoprogramma che aveva dato quel governo va detto che col governo Draghi i criteri e anche i tempi sono sono cambiati quindi non è che noi non diciamo che quel percorso era sbagliato quel percorso era valido rispetto ai criteri che aveva dato il governo Conte II il governo Draghi ha dato altri percorsi e quindi quelli seguiamo sul tema del collegamento di cui parlava il sindaco va detto che comunque nelle interlocuzioni che abbiamo avuto anche successivamente a quei 32 progetti da parte delle amministrazioni comunali non abbiamo avuto una precisa richiesta di questo tipo sia di Riva ma va detto anche della Val di Ledro la Val di Ledro va detto ciò che ha chiesto è la variante di Molina che è un'opera che ha un impatto finanziario importante che non può rientrare dentro il PNRR perché il PNRR non finanzia opere stradali ma che è diciamo nella lista delle grandi opere perché stiamo parlando di un'opera di 30-40 milioni che ancora devono essere fatte sul territorio trentino ma che abbiamo messo diciamo all'attenzione nostra mi rivolgo ancora a voi se qualcuno vuole fare domande o intervenire fatemi un cenno così vediamo di organizzarci l'unica preghiera che dovete venire qui e parlare a quel microfono prego prego buongiorno buongiorno a tutti ringrazio il presidente e l'invito come deriva io ne approfitto proprio già che sapevo che è un'anteprima quindi noi sindici non avevamo in mano niente di questo ma io così dati tecnici quello politico io ricordo ero presente all'ultima riunione dell'osservatorio del Brenner era fine 2019 e in quell'occasione era presente RFI e da lì era un po' nata questa disponibilità RFI a fare questo studio di fattività che è ben oggi e ringrazio il dottor Andriata e il leggero del codice dell'illustrazione le domande potevano essere due io volevo capire rispetto allo studio se c'è una simulazione rispetto al numero di passaggi in testa mi pare si parla di 7.000 persone giorno sul treno eravamo con i 19.000 di media questo è un dato che si può tradurre in quanti veicoli avremo poi di passaggio da una parte dall'altra se i 450 milioni stimati dell'opera hanno già una notazione di quanti all'aria aperta e quanti in galleria perché appunto io sono molto favorevole al fatto che c'è una fermata su Mori cosa che il metro non prevedeva dopo le fermate non so se intesa Mori ferrovie per i professionisti o se era che lì è comune di Rovereto o se era Mori Borgata però benvenga se è una fermata su Mori Borgata anzi la sull'ecita se posso ma dall'altra parte è capire appunto se si pensa a un treno in superficie o un treno in galleria perché questo cambia molto il punto di passaggio in mezzo a Borgata ma soprattutto io ero interessato sui famosi 20.000 passaggi giorno che abbiamo all'oppio il treno a quanto potrebbe portare o se invece parliamo di 9.000 persone in più in arrivo sulla tratta o se appunto invece è compensata ecco due domande tecniche poi immagino ci sarà invece modo di confrontarsi col Presidente per cui lo guarderà magari un incontro soltanto politico rispetto a questa attività grazie allora vediamo se con il dottore Andreatta riusciamo a fornire già delle risposte prego la cosa sorprendentemente positiva è proprio quella legata ai flussi nel senso che qui c'è una ferrovia che potenzialmente è in grado di intercettare un terzo un terzo dei passaggi attuali in autovettura con quel che ne consegue nessuno immagina che gli spostamenti in autovettura nei prossimi dieci anni siano azzerabili evidentemente ma la capacità di eroderli di un terzo è assolutamente rilevante in generale in Trentino oggi ma anche nel nord-est la ripartizione modale dice 80% spostamenti veicolari 20% spostamenti o pubblici o pedonali o ciclabili il fatto di erodere il 30% di quelli veicolari è un profilo di assoluto interesse per quest'area grazie non vedo altri interventi prenotati se è così possiamo concludere la nostra conferenza prego le domande tecniche del sindaco allora il 90% del percorso è previsto in galleria e quindi all'esterno la tratta è strettamente necessaria e su cui quando parlavo di opere anche di mitigazioni c'è il passaggio nella piana che non è così banale insomma va studiato e le stazioni ovviamente sono possibilmente accessibili quindi saranno esterne i costi alti sono dovuti proprio allo scavo delle gallerie avete visitato il cantiere la settimana scorsa per capirci la galleria è le dimensioni di quella piccola per capirci come dimensione però finito l'attrezzaggio e tutto siamo sull'ordine tra i 25 e i 30 milioni di euro al chilometro questo è il conto i 400 milioni vengono facilmente perché stiamo parlando dai 12 ai 15 chilometri adesso con l'interruzione come diceva il dottor Andreatta della sostenibilità della fermata di Mori è una un'influenza importante ovviamente come diceva il presidente la connessione è sul corridoio del Brennero e quindi oltre all'obiettivo del traffico giornaliero dobbiamo vedere anche l'obiettivo del traffico europeo quindi l'idea è la connessione sulla linea del Brennero che arrivi fino a Riva del Garda e quindi che ci sia un trasferimento modale non solo del flusso giornaliero che è comunque importante e comunque sarebbe interessante per l'appendolarismo tra questa zona e quella di Roverito ma è anche importante per riuscire a cambiare il modo di arrivo al Garda dei turisti quindi questo è l'obiettivo in linea con quello che diceva il Presidente del Tunnel del Brennero quindi 2032 2030 32 2036 questi sono i step temporali e anche in questo obiettivo direi che l'investimento si può configurare in termini temporali insistendo sull'inserimento della rete nella rete nazionale e quindi come investimento di sviluppo della rete che ci sta anche all'interno di quelli che sono gli obiettivi della transizione ecologica